E vabbè, regà, andiamo! Grafichina nuova dove ci saranno anche le icon tots, anche se non confermate, ma io vado sulla fiducia che ho per il genere umano. Allora, ci avemo sti picchetti. Vediamo subito di trovare il primo, dai. Eccoli qua, questi sono 385 e più, ragazzi. Qui per forza vanno trovati. Qui almeno uno ce deve sta. Rice, eccoci. Kudus, e siamo a due. Che cos'è questa partenza, oh? Eeeh, ragazzi. Eeeh, regà. Cioè, chiudo la stream. Chiudo la stream, ragazzi. Il drop è una merda. Chi è? Beccate qua. Kudus, e te che ha riso? Che bello! Giocatori rari maxi secondo tempo. Ma che vuol dire? Allora, mo' c'ho il 50k. C'ho pure un po' di 83, che non so come è il drop di sti 83+. Com'è il drop degli 83+, una merda? Eh, ormai ho fatti, regà. Toccatene esseli. 83+, uguale 83. E vè? C'ho come quell'impressione pure io. 20 minutes later. Oh, ammazza, oh. Forse quei picchi erano buggati, regà. Però sti pacchi... Male, male. Danilone. Danilone. Bello. Certo, Brasile. Cor Brasile me so cagato un attimo sotto. Poteva essere Gabriele Gesù, poteva essere Rodrigo. Porco de Dio! L'importante è trovarli. Beh, oh, comunque il design, sì, cioè. Dite quello che ve pare, ma a me il design mi piace troppo. Il grafico è assolutamente il goat, sì. I rossi sono ancora più belli, so d'accordo. Yoshi il Puzzone ha trovato Pelé Prime dall'Icon. Porco 2, ma Yoshino, frateee. Prima Ronaldinho su Xbox, poi Pelé Prime. E piagne, e piagne. Allora, che so sti pacchi da merda? In teoria qua c'ho il ciotto, eh, bro? Cioè io qua ci dovrei avere solo ciotto, sì. 10 giocatori, 82 e più, vediamo. Un cazzo. Vabbè, aprimone un altro, fidate, mo ce n'è uno qua. Ah, bene. Later. 21, pacchettini, pacchettini. Hanno aumentato i giocatori dentro. 60 giocatori, però il prezzo dei FIFA Points è rimasto uguali. Si gode, si gode. Oh, comunque 25% Team of the Season, eh, ragazzi. Non vorrei di... Eh, eh, Manolas. Il mio attaccante preferito. Il mio attaccante preferito della squadra mia preferita. La Z si relazionò. Oh, 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 oh. Ah, comunque sono sparite le icon. Cioè è ufficiale, penso. Io non trovo un icon normale dentro un pacco, penso, da 45 anni. Eccolo. Brasile. Oh, Gertrude. Porco Dio, ma che carta c'ha, oh. La Roma sì e il feglie no. Oh, 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 oh. La Roma sì e il feglie no. Ma cazzo le carta c'ha, Gertrude, oh. Eh, 800k costa, eh. Ma non è che questo è pure lento. Oh, questo gioca pure terzino. Pulito, pulito. Eccolo, fidate. Eccolo qua. Brasile. Oh, Bergwijn. Carino. Carino, Bergwijn. Oh, e siamo a 7. Mancosta un cazzo significa che c'ha ancora il debole marcio. Invece no. Ma è buono. Bergwijn. Oh, si pronuncia Bergwijn, no? E mica dici Winaldum. Dici Wainaldum. Hai ragione, è Willandum, effettivamente. Se sono sbagliate, è Willandum. Mica dici Rygard. Dici Richard. Oh, Brasile. Io non ho un icon normale dentro un pacco, penso, da 45 anni. Attenzione. Ma le mid? Sanno ancora nei pacchi? È più di mezzo milione, bro. E che faccio? Me lamento io. Vedi, ve l'avevo chiamato, cazzo, zio porco. Oh, questi sono pacchi. Sì. No. Ok. Va bene così, va bene così. Chi è che ci abbiamo della community, a parte tipo quelli ovvi? Eh, minchia. Ce n'abbiamo una cifra della community da trovare. Belli. Che cazzo è sto coglione? Allora, io penso che sicuro oggi proviamo. Rodrigo, Gabriele e Gesù. Usando Rodrigo, Gabriele e Gesù potremmo provare a che? Vediamo. Ok, va bene. Per ora direi pure basta. Cioè, nel senso, abbiamo finito i giocatori. Cioè, abbiamo finito i giocatori, abbiamo finito lo spazio in lista trasferimenti. Allora, adesso per svuotare la lista, per svuotare la lista trasferimenti dobbiamo fare una roba importante. Ok, vai, pronti. Icone. Icone. Siete pronti, ragazzi, a vedere queste fantasmagoriche icone? Allora, la prima, io la voglio, la vorrei guardare in faccia, la prima. La prima la vorrei guardare in faccia. La seconda, anzi no. Vaffanculo, non voglio guardare in faccia proprio che è un gran cazzo. Dov'è Shrek? Eccolo, lo zano Shrek. Allora, vediamo se ho fatto qualcosa di giusto. Ok. 70 di fisico, regà. 41 di difesa, boys. 92 di dribbling. Un po' marcio. Un po' marcio, doveva essere più alto. 89 di passaggio. 86 di tiro. 90 di velocità. No, ragazzi. La prossima. Dov'è? Vai, Copium. Dai Shrek, porco Dio, portami bene, oh. Ma che davvero, davvero fai? 73 di fisico. 41 di difesa. 90 di dribbling. 77 di passaggio. 92 di tiro. 90 di velocità. 2 doppioni su 2. Porco di Dio. Ammazzatemi. Ammazzatemi. Stasera i rubinetti sono chiusi. Eh, un po' chiusetti. Vabbè, ma manco troppo. Cioè, è giusto. Però, direi almeno un toz prelibato me lo meriterei, eh. Cioè, un toz prelibato, bro. Oh, me lo deservo, Dio, porco. Pronti. Pronti. Oh. Mannaggia a Gesù. Mannaggia a Gesù. Questo è non scambiabile. Però mi sa che io l'ho trovato scambiabile. Quindi dovrebbe essere... Ah, no, è scambiabile. Ah, ok, buono. 9. 2,86 più? Secco. Non sono capace. Non lo riesco a fare, ragazzi. Non lo riesco a fare, gà. Kogu e Zano Shrek. No, porco di Dio. Allora, si vola diretto a 12. Allora, Danilo dovrebbe essere un altro scambi... Allora. Giocatori Euro Premium. Giocatori là che stanno là. Dammi l'altro 86 più, per favore. Fammi vedere com'è. Moments. Ah, il coglione americano. Vabbè. Sì? Porta sto coglione, oh. Un'altra volta questo coglione. Mortacci, il verme. Wow. Ma sti 82 è una merda. Veramente brutti. E ci ho buttato dentro pure... Mi nonno ci ho buttato dentro, porco giù, da quando sono usciti, oh. Sì? No, ancora mano l'ass. Ancora mano l'ass. Vabbè, 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 è uno in più. È uno in più. Ce l'ho scambiabile, bono. Bono. Quello prenderà il volo dentro un toz tipo. 84 lo kippi. 8 giocatori della serie A li teniamo. 3 giocatori 84. È l'ultimo. Vai. 3 giocatori 84 più. Eccolo qua. Io aprirei... Io aprirei gli ultimi due di questi. Arriverei a 40. Ok, il pacco mi si... Palle, sta play, oh. Che palle. Allora, minchia, ma non cosa... Ma io la spacco. L'ultimo. Ultimo pacco. Quei crediti. Il pacco con i crediti vincente. La merda, oh. Sti cazzo dei coglioni dell'RDV, se, oh. La stupida troia. Ultimo. Ma basta, basta. Cudu scoglione. Oh, camavinga, pulito. Oh, 200k di camavinga, bello. Meglio dei toz. Allora, facciamo... Metti schermo intero, metti Gabriele e Gesù. 3 milioni e 2. Mi prendesse un colpo. Rodrigo. 1 milione e 8. Madonna, troia. Gertrude. A che? De Gea. Ok? Io volevo provare, però, pure Turam. Come porco di Dio li linko. Non mi tocca mettere, tipo, Varane. Sai che forse, regà, Malasia? Malasia maggiore Varane. Metti Eder Militao e sti cazzi. Dove fa la bella, bella, metti Iaia Ture. Bella, oh. Bella, 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 bella. Vabbè, quando Albe sarà pronto per fare il party, verrò ad aprire le Icon. Nel frattempo, proviamo la squadra. Vai. Vediamo un po'. Non gli fanno vedere la squadra che sanno rosica, boys. Proviamo prima 4-3-2-1. So, so, eccitato. Sono eccitato e sono pronto a bestemmiare la Madonna con i miei giocatori. Pensa se si spegna la play. Oddio, Berguin è una scheggia. Come vedete sto Xavi Simons? Bello, Iaia Ture. Xavi Simons. Ma quanto è basso Xavi Simons, ragazzi? 1,68. Ah, è un bel po' basso, allora, sì. Davide! Vai a che, fammi vedere chi comanda. Bravissimo. Bernardo Silva. Fammi sentire il 99 di dribbling. Oh, porco Dio, ma che è sta CPU, oh? Questo non sta a giocare, oh? Sto a fare squad battles, sto a fa'. Bernardo! Bernardino! AC2 si in vola in solitaria! Berguin. Lì. Pulito. Educato. Preciso. Gabriele Gesù. 2 a 0. Hai capito? Xavi Simons. Beccate che regazzino. C'è da dire che tra che Xavi Simons sto godendo a livello estetico in game. No, che culo, madonna troliona. Mamma mia, che succede? Eh, sto deghiamo, momentaneamente. No, non lo diamo, non lo diciamo, non lo diciamo, non lo diamo, non lo diciamo. Vai, Berguin. Ma come dire, no? No, no! Bello. Beh, Xavi Simons è per ora mio figlio. Per ora Xavi Simons pare che boh, insensato come CC, ragazzi. Pare veramente incredibile. Ma magari continua così, però ragazzi dobbiamo calcolare una cosa. Questa era la prima partita di Weekend League. Lo sapete che le prime partite di Weekend League, mezzo che non vargono. Ne dobbiamo parlare dopo tipo il quinto. Dopo il quinto game possiamo parlarne. Per ora promette. Quanto cazzo è bella sta canzone, madò? Questa sta a fare una delle azioni più rotte in culo della storia. E te la chiude giustamente con un bel gol da merda. Mohamed. Mortacci tua. Giusto lo stemma e il Paris Saint-Germain ci potevi capire. Lì. Bravo Gabriele. Dai, porco Dio. Bernardone. Parte un siluro. Spettacolo. 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 Grazie per la visione!